Massimo Zamboni Ginevra Di Marco Max Collini Grazie Grazie Io dormivo, mia madre andava a lavorare presto, arrivava l'una ed ero ancora letto, ricordo che mi alzavo, vestivo, prendevo la borsa con dentro i libri del giorno prima ed uscivo dalla finestra della mia stanza mentre mamma entrava dalla porta. Mamma si fidava di me, una volta andò a ricevimento dei professori, perché era una fase politica intensa, assemblee, cose così. Il docente di Agraria era un uomone vestito di nero, ultra cinquantenne ed anche ultraconservatore, ti terrorizzava solo a guardarlo. Lo avevamo ribattezzato, visto l'abito e lo stile, Kappler Suo figlio è una brutta persona, le disse. Non studia niente, non viene mai a scuola. E quando viene fa casino, sciopera, contesta, sobilla. Stanca. La scuola a suo figlio non serve. A suo figlio serve il militare nella legione straniera. Ma non pensi che io sia prevenuto. Ho dato quattro compiti in classe e stato assente a tutti e quattro. Mancavano tre giorni gli scrutini, gli ho detto. Va bene che la scuola borghese e gentiliana non le piace, ma forse un 2 prima della maturità non le piacerebbe neanche quello. E allora io sono venuto a scuola il pomeriggio, a 56 anni e quasi alla pensione, per far fare un compito a suo figlio, che ne ha saltati 4 su 4 in un quadrimestre. Ha preso 8, poi mi ha detto, prof, in pagella mi dà 8, la media è 8, no? Suo figlio signora, suo figlio signora, ha la faccia come il culo. Mia madre torna e fa. Ragazza, ragazzo mio, hai qualcosa che non va. Kapler, mamma, mi ha dato 8. Kapler andò in pensione tre anni dopo quella maturità. Morì nel giro di qualche mese. Grazie a tutti. Grazie a tutti.